Segui le tracce di Apollyon nel Mair. Dovevo trovare Ayu. Bene, bene, bene. Sai dove si trova Ayu? Ciò che mi colpì di più della Daimyo Ayu fu la spietatezza. Spero che Ayu sia viva. Spero che mi colpì di più. Devo seguire quel corno. Spero che mi colpì di più. Spero che mi colpì di più della Daimyo ayu. Spero che mi colpì di più della Daimyo ayu. Spero che mi colpì di più della Daimyo ayu. Spero che mi colpì di più della Daimyo. Spero che mi colpì di più delito! Oh Voi vichinghi ci avete derubati abbastanza Oh Dov'è il vostro bottino selvaggi? Oh Oh Eccezionale Ci sono parecchi dai mio morti qui Scongiuravo una guerra civile Allora l'imperatore si sbagliava su di te? Abbiamo dei vicini testardi Sono d'accordo Proteggete il molo ci vediamo la Proteggere il molo eh? Come se fosse facile Speravo di raggiungere i vichinghi prima che sparissero col bottino Oh 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 Non dare l'ordine Abbiamo problemi più urgenti Sei giuro Apollion gli ha dato il palazzo Gli ci vorrà più di un palazzo per governare Trapperemo l'usurpatore dal trono dell'imperatore E' come l'usurpatore dal trono dell'imperatore